Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo, ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio e roccaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando le immensità nascoste, mi sono recato personalmente nel mercato locale, dove mi è stato suggerito un prodotto che sarà perfetto per tutti coloro che vorranno muovere i primi passi nell'illuminario. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'emporio del crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia il Lorcana Trading Car Game Preludio. Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da Zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo, ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia le prime armi o un amatore, questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In Colleziono da Zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate, senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca Colleziono da Zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. La scatola presenterà Stitch, Malefica, Elsa e Topolino, che domineranno al centro con alle spalle un indicatore segnalor, il logo del gioco e della casa madre rispettivamente in alto e in basso a destra, con il titolo del prodotto sempre in basso, questa volta invece al centro, ed un bollino in alto a sinistra che indicherà a chiare lettere a chi sarà rivolto questo prodotto sulla parte frontale. La sola immagine di Elsa e Malefica, con lo stesso logo del gioco e della Ramen's Burger su due lati della scatola, solamente Topolino con Stitch assieme all'icona di Lorcana ed anche qui della casa produttrice, e Malefica con il titolo del TCG in questione sui restanti, e la lista del contenuto, come utilizzarlo per iniziare a muovere i primi passi nel GCC marchiato Disney e tutte le informazioni legali del caso riportate sulla parte dorsale. Una volta aperta la confezione, al suo interno troverete un libro delle regole, un manuale di gioco, scopriremo fra poco come utilizzarli entrambi, due taloncini con dei consigli sui mazzi presenti nell'articolo, con tutte le nozioni fondamentali per poterli utilizzare al meglio, 16 token danno da una singola unità, 8 da 3 e 6 da 5, due cartoncini con suraffigurati i quattro protagonisti, due per mazzo, Topolino ed Elsa per il Ruby Sapphire, e Stitch con Malefica per Lamber Amethyst, altrettanti stand di plastica trasparente dura, dove potranno essere posti questi ultimi, una plancia da gioco rigida per due giocatori, dove saranno presenti tutti i suggerimenti per affrontare una partita nel modo più agevole possibile, che riporterà inoltre sul retro la tipica trama da nube siderale, con il logo sia del TCG in questione che della casa madre, i deck pronti all'utilizzo che, come riportato a chiare lettere, non dovranno essere mescolati per nessuna ragione, capiremo a breve anche il perché, e quattro mazzi numerati dall'1 al 4, che conterranno carte che, con l'avanzare del gioco, potranno essere utilizzati a seconda dell'evenienza. Ora, dopo aver visto l'intero contenuto della scatola, capiamo meglio come il tutto potrà tornare utile per chi deciderà di acquistare il prologo. La prima cosa da fare sarà leggere le regole, lo troverete scritto proprio sulla prima di copertina. In questo fascicolo vi verrà fatta una descrizione accurata di ogni singolo passaggio che dovrete svolgere per preparare una partita. Addirittura le carte che dovrete avere in mano nel vostro primo turno di gioco. Sarà tutto comandato, ovviamente. Ecco perché non dovrete mescolare i due deck principali che troverete. Sarà presente anche un vademecum sulla composizione di una carta, le tipologie, le diverse fasi che comporranno un turno di gioco, come utilizzare il calamaio, giocare una carta, andare all'avventura, utilizzare abilità, sfidare altri glimmers, e come, infine, sistemare ogni cosa al suo posto una volta terminato il match. Una volta apprese le basi, quindi, non resterà altro che approfondirle attraverso l'utilizzo del secondo fascicolo. Il manuale. In esso si troveranno delle vere e proprie missioni da svolgere per poter progredire con il gioco, aprendo i cosiddetti portali, ovvero i quattro piccoli mazzi numerati. Completando ogni obiettivo, quindi, potrete scartare il primo mini deck scoprendo le canzoni in esso contenuto, il secondo che conterrà gli oggetti, introducendovi anche alla dinamica dei costi delle abilità, il terzo che vi porterà alla conoscenza dei personaggi imbevuti e alla parola chiave trasformazione, ed il quarto che andrà a fornire ulteriori armi da scagliare contro l'avversario in match sempre più divertenti e volti all'apprendimento. Un prodotto eccellente, ancor più dell'avventura multigiocatore di Ursula, che potrete trovare qui, e che è stato pensato appositamente per tutti coloro che vogliono intraprendere il percorso in l'Orcana o semplicemente vedere se è un titolo che fa al caso proprio. Per i veterani, invece, ovviamente questo prodotto non fa per loro, ma se siete comunque dei collezionisti, acquistarne una copia sarà come sempre d'obbligo. Una categoria che invece potrebbe trarre un gran beneficio da questo articolo sono di sicuro i proprietari delle fumetterie o centri ludici, perché con il preludio si potranno, se si vorrà addirittura organizzare una sorta di scuola dell'aspirante illuminatore, portando alla conoscenza di quanti più curiosi possibili le dinamiche del TCG targato Disney. Disponibile ad un prezzo indicativo di 25 euro, questo articolo sarà perfetto per i principianti, e quindi se vorrete dare il via alla vostra avventura in l'Orcana, potrete acquistare il preludio al link che troverete in descrizione. Prima di concludere, volevo ringraziare Fantasia Store per avermi dato la possibilità di parlare del prodotto mostrato in questo contenuto. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti, dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!